Ci siamo io! Teatro Tutano! Ehi, 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 ok? Faccio freestyle con i gramnes Faccio freestyle con il suo base Hai capito un po' come mezzo e rimani troppo piccoli Faccio freestyle e si facciano due secoli E' così che faccio la rimano strana Abbiamo anche l'Adriana E' così che voglio rimanere troppo strani Siamo così lo scudo, siamo medievali Teatro Tutano, un po' di casino Draghi e sto in questo Facciamogli sentire un applauso a questi ragazzi Per noi è sempre una gioia essere qua Con questi tamburi In questa cornice del Teatro Titano E vogliamo anche poi ringraziare Gli istituti culturali Per averci fatto suonare in questa serata Per averci fatto Poi Winnie! Per averci fatto suonare in questa serata Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Raga, fermi lì, giratevi da questa parte, luci in sala se possibili, stringetevi raga. Ci sono delle luci in sala che se no sembrano prima delle gallerie. Prima, arriva. Prima, arriva. Prima, arriva. Applausi. Grazie a tutti.